Il 27 marzo 2020 queste immagini di Papa Francesco che sale ai gradini di fronte alla Basilica di San Pietro al buio e sotto la pioggia simboleggiano la gravità della situazione del coronavirus mentre l'Italia diventa il paese più colpito in Europa. Come parte delle restrizioni a tutte le chiese è stato ordinato di chiudere i battenti e i fedeli non hanno più potuto partecipare alla Santa Messa, ma meno di due mesi dopo grazie alla pressione dei vescovi italiani sul governo, le chiese sono state riaperte con l'obbligatorietà delle mascherine sul viso ed il divieto di cori. Uno studio dell'European Center for Law and Justice del novembre 2020 ha scoperto che su più di 40 paesi europei, solo Spagna, Polonia e Paesi Bassi sono stati gli unici paesi dove non è mai stato vietato il culto pubblico, anche durante le chiusure più severe. Al contrario, ha osservato che i paesi con le restrizioni più severe sulle cerimonie religiose erano Francia, Belgio, Gran Bretagna e Irlanda. In Irlanda, dal dicembre del 2020, le messe pubbliche sono state completamente vietate. La settimana scorsa il governo irlandese ha introdotto una nuova legge che rende un reato penale partecipare a determinate manifestazioni a chiuso, una delle quali è la Messa. L'arcivescovo Imon Martin, primate cattolico d'Irlanda, sta sollecitando il governo a fare marcia indietro. Nella piccola parrocchia di Mullahoran, al centro dell'Irlanda, padre PJ Hughes è il parroco. Si rifiuta di non celebrare la Messa in pubblico, nonostante le forze dell'ordine lo abbiano fermato più volte e gli abbiano inflitto una multa di 500 euro. Ho preso una posizione perché credo che la gente abbia il diritto divino di vivere la propria fede e in gran numero continuavano a venire a Messa ogni giorno, tra le 8 e le 30 persone. Ritengo che venissero tutti a pregare. Ricordate, la preghiera è molto potente e può spostare le montagne. Questo filmato è di domenica scorsa, dove una manciata di persone del posto si è ancora riunita per celebrare la Messa, nonostante la nuova legge la renda illegale. In netto contrasto con l'Irlanda, dall'altra parte dell'Europa, la Polonia è uno dei paesi che non ha mai impedito alla gente di partecipare alla Messa, ma sono state introdotte delle regole, come le mani che devono essere disinfettate, il distanziamento sociale obbligatorio e che solo un numero limitato di fedeli è autorizzato a partecipare. In più, i confessionali sono coperti da protezione di plastica. Con un limite al numero di persone che possono entrare nelle chiese per la Messa, molte sono ora trasmesse online e in TV. Questo sta dimostrando di avere molto successo con le messe, che sono diventate alcune delle trasmissioni più viste nel paese. Per farvi un esempio, una sola Messa domenicale, in diretta dal santuario di Nostra Signora di Jasnagora, è stata vista da circa 3 milioni di persone, il che significa circa il 10% dei cattolici in Polonia. Come la famiglia Brozowski, che segue la Messa ogni domenica in TV. Secondo uno studio della chiesa in Polonia, molti preferirebbero tornare in presenza in chiesa. Anche in Lituania le cerimonie religiose sono sempre state permesse, ma con restrizioni, e il governo ha consigliato alla gente di rimanere a casa e partecipare online. Nella parrocchia di Santa Vergine Consolatrice a Pilnius hanno trovato un compromesso. Padre Algirdas Toliatas ha invitato i parrocchiani a partecipare alla Messa in auto, accendendo i fari per segnalare chi vuole ricevere la Santa Comunione. Janetta è una dei parrocchiani e dice di apprezzare le idee della comunità. Questo sentimento della comunione è forte, anche se siamo seduti in macchina e possiamo solo aspettare o uscire dalla macchina per un breve periodo. In Francia il culto pubblico è stato inizialmente vietato e dopo che un appello dei vescovi è stato respinto dal governo, i cattolici sono scesi in strada per protestare, pregando fuori dalle chiese, nonostante le minacce della polizia francese di fare loro delle multe. In Francia le messe sono riprese da poco. In Ungheria lo scorso fine settimana le grandi parrocchie e cattedrali hanno riaperto le porte ai fedeli. Circa la metà delle chiese ungheresi sono chiuse da marzo. I parrocchiani della diocesi di Budapest si dicono felici di poter ricevere di nuovo i sacramenti. E' stato piuttosto impegnativo per tutti noi perché l'Eucaristia è la fonte della nostra fede. La chiesa ungherese si sta preparando ad ospitare il congresso eucaristico internazionale che si svolgerà a settembre 2021 e dove parteciperà anche Papa Francesco.